La linea più sportiva, mi piaceva la linea della Selica, nel 2006 ho acquistato questa Selica originale, dopo due mesi era già nel mio garage in lavorazione e così come la vedete adesso è uscita direttamente. Ho acquistato la mia Selica nel 2002, prima di questa della mia Selica ho avuto due altre macchine e tutte le due coupé, volendo ottenere la tradizione del coupé ho comprato la Selica. Dopo circa un anno con progetti vari è stata modificata con kit, verniciatura e altre componenti. In realtà sono due i dettagli che prediligo sulla mia auto, i cerchi cromati di due canali diversi e la verniciatura verde Lamborghini. Invece il dettaglio che prediligo io è la parte anteriore della vettura perché ricorda anche lei lo stile Lamborghini e anche il colore della stessa. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.